Ciao amici e benvenuti in questa unboxing di Halo Infinite, nuovo capitolo della serie franchise di Halo sviluppata da 343 Industries prodotta da Microsoft Game Studio. Signori, finalmente ecco a voi la unboxing. Allora vi dico che la recensione uscirà il prima possibile perché la devo testare tutto quanto, poi ci sono anche le foto e via dicendo, quindi ci vorrà un po'. Questa comunque è l'unboxing. Allora vi faccio vedere dietro, questa è l'immagine del gioco con Master Chief, qui c'è l'Alo, praticamente alcune strutture dell'Alo che andremo sicuramente a visitare durante il gioco, qui c'è il Pelican e via dicendo. Allora qui come potete leggere c'è la campagna per giocatori singolo, c'è la modalità multiplier che è un free, che è praticamente free to play su Xbox One, Xbox Series X e PC ovviamente, è cross play, praticamente si può giocare sia con gli utenti Xbox One, con gli utenti Xbox Series X e S e ovviamente per PC. Adesso vi faccio vedere anche il disco di gioco, questo qua è il disco di gioco, bene, tutto qua. Come vedete è un unboxing molto semplice che non c'è né collettoridici o né niente. Bene ragazzi, spero che vi sia piaciuto, appuntamento per la recensione che uscirà il prima possibile e noi ci vediamo per la prossima avventura. Quindi un saluto dall'uomo mistioso, dall'eddyblu e ovviamente dal vostro amico Bomber. Vi invito anche a iscrivervi ai nostri social, Facebook, Ask e Instagram. Vi invito anche, ci sarebbe anche il canale di Twitch ma per il momento è sospeso un attimino perché dobbiamo ancora un po' sistemarlo e via dicendo. Quindi con calma non vi preoccupate che attiveremo anche quello. Poi vi consiglio il nostro negozio di videogiochi GameStarter.it che vede appunto videogiochi per Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC. Vi consiglio anche un piccolo esempio dei nostri canali colleghi e soprattutto se caso venite all'Avano a Bombello, che volete, non so, passare le vacanze, eccetera, eccetera che avete bisogno di una piccola sistemata alla macchina, andate a bordo a Netticarlo che fa anche l'autoriparazione dell'autotepoca tipo la Volkswagen. E se caso siete giocatori per PlayStation, passate nel gruppo della mia amica che si chiama Vincenza. Il suo gruppo si chiama Malati di PlayStation Fans Club. Quindi ragazzi avete tantissima cosa, tantissime cose. Quindi noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, grazie per il supporto. Bye bye. Ciao a tutti, grazie per la visione.